Grazie per la visione! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, da secoli qui ti invochiamo come Madonna della Salute. Volgi il tuo sguardo su di noi, che sotto la croce ricevesti come figli. Proteggi la nostra vita, veglia sui nostri affanni e sana le nostre infermità. Vergine Benedetta, con il tuo sì hai offerto al mondo l'autore della salute. Aiutaci ad accogliere con la stessa docilità la parola del Signore, perché in noi si compie la sua volontà. Custodisci, o Madre, le nostre famiglie. Conservale nella concordia e nell'amore. Conforta i nostri ammalati con il vigore della speranza. Ispira ai giovani la fedeltà al Vangelo, l'impegno costante e il servizio generoso. Rendici attenti alle sofferenze e alle angosce dei fratelli. Prendici per mano, Vergine Santa, e guidaci all'incontro con il Figlio tuo, Gesù Cristo, nostra gioia e nostra salvezza. Amen. Preghiera alla Madonna della Salute Vergine Santissima, che sei venerata con il dolce titolo di Madonna della Salute, perché in ogni tempo hai elenito le umane infermità. Ti prego di ottenere a me e ai miei cari la sanità del corpo, o almeno la forza di sopportare le sofferenze, in unione ai patimenti di Cristo Redentore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine Santissima, che sai sanare non solo le infermità corporali, ma anche quelle spirituali, ti prego di liberare l'anima mia e di tutti i miei cari da ogni colpa, per poter essere sempre degni dell'amicizia e della grazia di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Vergine Santissima, che concedi ai tuoi devoti la bella sorte di conseguire la salute eterna. Prendi nelle tue mani la causa dell'anima mia e fa che possiamo raggiungere con te la gioia e la luce del cielo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo Vergine Maria, che sei invocata con il titolo di Madonna della Salute, perché in ogni tempo hai lenito le umane infermità, ottieni a me e ai miei cari la grazia della salute e la forza di sopportare le sofferenze della vita in unione a quelle di Cristo Redentore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine Maria, che sai risanare non solo le infermità del corpo, ma anche quelle dello spirito. Ottieni a me e i miei cari la grazia di essere liberi dal peccato e da ogni male e di corrispondere sempre all'amore di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine Maria, Madre della Salute, ottieni dal Signore per me e per i miei cari la grazia della salvezza e fa che possiamo giungere a godere con te la beatitudine del cielo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Maria, salute degli infermi, perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. E per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera della novena alla Madonna della salute, terzo giorno. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Grazie, Gesù, per averci dato Maria come madre. Grazie, Madre, per averci accolto tutti come bambini sul Calvario. O Maria, puoi fare tutto davanti a Dio e vuoi il meglio per i tuoi figli, anche se a causa della nostra ingratitudine e dimenticanza non meritiamo il tuo aiuto. Tu sai bene, Tu sai bene, Madre, quanto abbiamo bisogno di te. La vostra missione è stata unita a quella di Gesù, venuto a salvare ciò che era perduto. Ecco perché oggi ci rivolgiamo a te, Madre della Grazia Divina, perché tu riversi su di noi le grazie di cui abbiamo bisogno per essere fedeli servitori del tuo Figlio. Grazie. 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 Grazie.